Beh, sono contenta anche perché ieri è stato un grande risultato, però oggi ancora di più. Miravo al record del mondo junior da un po', però l'obiettivo oggi era almeno andare sotto i 30 di nuovo e comunque è andata bene. Quindi diciamo che non te l'aspettavi questo tempo? L'obiettivo, ripeto, era quello, però comunque non si sa mai, non si può mai sapere e ci speravo, però sì, un po' era in aspettare.